Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 10 del settimanale sportivo di Fano TV. Alma Juventus Fano che torna a vincere anche in trasferta, lo fa a Vasto Girardi, campo certamente non semplice, dopo 5 successi consecutivi in casa, 3 punti in un colpo solo anche in trasferta e la classifica ne beneficia, formazione Granata ormai stabilmente al quinto posto che si guadagna anche del margine rispetto alle inseguitrici e che dunque alla vigilia della pausa si mette nella migliore condizione possibile per affrontare il tratto finale della regular season di questo campionato. Dell'Alma Juventus Fano parleremo questa sera con due ospiti che fanno parte della leva, direi piuttosto articolata, dei giovani che la formazione Granata sta schierando in questo campionato, Alessandro Tomassini, difensore della squadra Granata, buonasera e benvenuto. Buonasera. 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 dal valore del vasto Girardi ma anche dal fatto che si giocasse in trasferta su un campo insintetico non particolarmente ampio e contro una squadra che comunque veniva da una striscia positiva. Brunetti che partita è stata? Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato? È stata una partita molto complicata come sapevamo sin dall'inizio e comunque ci siamo comportati molto bene. Alla fine non abbiamo concesso parecchie occasioni agli avversari, siamo stati molto bravi e poi in secondo tempo essendo un po' più aggressivi siamo riusciti a sbloccarla con un grandissimo gol del nostro capitano. Vediamo l'unico rischio che avete in realtà a corso, proprio ad inizio partita una punizione di Ruggeri che lo specialista non a caso è il capocannoniere del vasto Girardi, l'incertezza di Bizzini poi un intervento ai suoi danni che è stato giudicato falloso fortunatamente per l'Alma vedremo poi che di decisioni arbitrali sfavorevoli in realtà Alfano ne sono poi seguite. Credo che qualora l'arbitro avesse accordato il gol per voi sarebbe stata molto più difficile, vero Tomassini? Sì, credo di sì, però comunque a parte i primi minuti di un po' di sofferenza la squadra è stata molto brava a riprendersi e a reagire nel modo giusto quindi credo che conoscendo i compagni sarebbero riusciti comunque a rindrizzare la partita e magari anche a portarla a casa anche in situazione da svantaggio. Abbiamo accennato agli episodi che invece hanno lasciato qualche recriminazione in campo Granata questo è il primo, l'atterramento di Drolet da parte del portiere avversario Petriccione Drolet lanciato in porta solo giallo, provvedimento generoso nei confronti di Petriccione poi Drolet protagonista di altre due situazioni, qui termina terra in area di rigore francamente non si capisce bene se il contatto ci sia o no è arrivato il giallo per simulazione nei confronti dell'attaccante Granata che tra poco vedremo appunto al centro di un ulteriore episodio ancora più eclatante perché in questo caso non ci sono dubbi che Ruggeri nel momento in cui Drolet è sul punto di avventurarsi in area di rigore avversaria, praticamente solo davanti al portiere avversario viene bloccato con un intervento con la mano da parte del difensore avversario Brunetti era molto vicino agli episodi in tutti e tre i casi, come li hai valutati dal campo? Allora, sul primo episodio secondo me era da cartellino rosso però comunque non bisogna stare lì a guardare tutte le decisioni dell'arbitro bisogna anche lasciare accorrere In occasione del contatto in area cosa hai visto? Secondo me era calcio di rigore però l'arbitro ha deciso diversamente quindi bisogna accettare tutte le decisioni dell'arbitro Non ci sono però discussioni sul terzo chiaramente Ruggeri è intervenuto con il braccio largo probabilmente l'arbitro impallato non se ne è accorto e l'Alba ha visto sfumare la possibilità appunto di godere della superiorità numerica da quel punto in avanti dicevamo dell'episodio che tra poco valuteremo che invece la partita l'ha decisa realmente e qui mi pare non ci siano dubbi sul fatto che appunto Broso sia stato autore di un gesto assolutamente straordinario non soltanto per un campionato di Serie D, vero Tomassini? Assolutamente sì, con Antonio abbiamo giocato insieme già dall'anno scorso qui a Fano ed è oltre che un gran calciatore anche una grande persona e quindi se lo merita ha fatto un euro goal direi che ci ha permesso appunto di portare a casa il risultato e oltre a lui tutti i compagni di squadra sono stati bravi eccolo qua sul traversone di Nappo mi pare questo gesto in acrobazia colpita benissimo la palla indirizzata nell'angolo è festa grande sotto i tifosi Granate che non hanno mancato neppure a questo appuntamento quanto vi sono vicini e quanto li sentite vicini i tifosi sono fantastici, ci seguono in qualsiasi trasferta soprattutto da Vasto Girardi che sappiamo che non è dietro l'angolo quindi li dobbiamo solamente ringraziare per tutto il supporto che ci stanno dando sia in casa che fuori ovviamente sono un'arma in più Dicevamo di una partita interpretata anche in maniera forse un po' diversa rispetto alle altre soprattutto all'inizio un'arma un pochino più sulle sue prima di aggredire con più decisione l'avversario anche il tuo impiego Brunetti è stato un po' diverso dal solito ti abbiamo visto fluttuare dietro le punte poi spostarti da Mezzara, poi allargarti quali indicazioni ti aveva dato Mosconi? Abbiamo cambiato il modulo per quella partita inizialmente volevamo cercare di aspettarli e farli giocare col passare del tempo abbiamo capito che comunque se li andavamo a prendere li creavamo più difficoltà loro e quindi abbiamo cambiato e siamo andati a prendere altri Probabilmente modifica lo schieramento dettate anche dal precedente dell'andata dove il vasto Girardi soprattutto sulle fasce, quella destra in particolare, gli aveva fatto male Sì, ci aveva fatto parecchio male con Fiori ci aveva messo in difficoltà e credo che domenica hanno creato veramente poco Questi correttivi allo schieramento hanno comportato il sacrificio di Tomassini che invece è stato titolare stabilmente nelle ultime settimane inizialmente già dall'anno scorso sembrava che il tuo ruolo fosse quello di esterno poi sei stato inventato tra virgolette come braccino di sinistro o di destra a seconda delle circostanze e credo che tu ti stia trovando a tuo agio Sì, sì, assolutamente Ringrazio il mister innanzitutto per la possibilità che mi sta dando che mi ha dato dall'inizio dell'anno anche se ho dovuto ricoprire un ruolo in cui insomma non ero abituato a giocare ovvero da esterno di centrocampo in cui sono riuscito a collezionare anche due gol nonostante sono sempre stato un giocatore Ecco, a proposito di gol, vediamo il primo della stagione che a sorpresa è stato firmato proprio da Tomassini e che va al suo il pareggio, un pareggio importante perché è la prima di campionato e si era ormai agli sgoccioli sul campo del nuovo team Florida Tocco d'attaccante qui, eh? Sì Di giustezza Nonostante per l'appunto E anche questo direi che è più ascrivibile ad un attaccante che a un difensore Sì Allora, sui colpi di testa diciamo che ci ho sempre azzeccato un po' di più Te la cavi Me la cavo, esattamente Mentre questa situazione è venuta per l'appunto perché giocavo in una posizione più avanzata e quindi ho avuto appunto questa possibilità e diciamo che l'ho sfruttata e quindi è andata bene come è andata Tomassini, classe 2000 questo significa che tu non rientri più nel novero degli under e questa chiaramente è una complicazione perché quattro under bisogna schierarli la politica del Fano è volta a valorizzare il più possibile i giovani non di meno sei riuscito comunque stai riuscendo a ritagliarti un tuo spazio Sì, sì come ho detto prima per questo ringrazio sia il mister che il presidente che appunto ha dato la possibilità quest'anno di continuare il mio percorso col Fano e speriamo di riuscire per l'appunto a continuare così e a fare sempre meglio anche Brunetti non era pronosticato all'inizio come un titolare fisso di quest'alma invece la realtà sta raccontando qualcosa di diverso e vediamo questo proposito non un tuo gol perché quello deve ancora arrivare e lo aspettiamo ma una situazione quella in casa con il Termoli in cui comunque hai contribuito a far sbagliare l'avversario mettiamola così su questo recupero palla di Zanni il pallone filtrante all'interno dell'area di gore dove tu controlli arriva il difensore del Termoli la piazza alle spalle del proprio portiere dicevamo della tua versatilità inizialmente eri accreditato come trequartista seconda punta ultimamente sei stato impiegato a tutta fascia come è stato l'adattamento a questo ruolo molto ingrato perché si tratta di pedalare parecchio e non soltanto di offendere ma anche di rincorrere agli avversari di sicuro non è il mio ruolo diciamo però comunque il mister mi ha deciso di farmi giocare in quella posizione come tale l'ho accettata mi va benissimo ci sono anche dei compiti difensivi da svolgere non è un problema mi piace ovviamente attaccare però come ho detto l'importante è che di buono comunque una volta che Mosconi ti ha dirottato sulla fascia ti ha forse regalato quello spazio in più quei metri in più di campo liberi per valorizzare le tue peculiarità che sono quelle di andare via bene sullo stretto di saltare l'uomo che forse sulla trequarti è un pochino più complicato essendo lì sull'esterno comunque ho più campo posso affrontare meglio gli avversari e sfruttare la mia caratteristica principale con Mosconi che grida puntalo, puntalo, puntalo tutta la partita e invece Tomassini da difensore mi pare che colpisca in particolare delle tue prestazioni la tranquillità sei uno che non si scompone tanto è così? ma sì nonostante il mister ci chieda un gioco molto aggressivo bisogna a mio parere rimanere sempre lucidi esattamente nonostante ci chiede una prestazione molto dispendiosa dal punto di vista che bisogna andare sempre a prendere alti stare sempre attaccato all'uomo non mollare un centimetro che è una filosofia che per l'appunto condivido come modo di giocare e cerco insomma di rendere al meglio sotto quell'aspetto l'Alma si era data una filosofia molto precisa alla vigilia di questo campionato appunto valorizzare i giovani soprattutto valorizzare i giovani del proprio vivaio e questa è stata una politica che chiaramente vi ha premiato perché avete avuto delle chance che diversamente in un'altra realtà in cui gli under impiegati sono ristretti a quelli dettati dal regolamento non avreste avuto è così Tomassini? Sicuramente sì ma comunque nonostante siamo per l'appunto mi sembra la squadra più giovane del campionato ma ricordiamo largamente in testa la classifica giovani di valore che è quella che tiene conto del minutaggio dei giovani esattamente nonostante questo appunto stiamo dimostrando di essere una delle squadre importanti in questo campionato di vertice esattamente e quindi il merito va sia ai ragazzi i più giovani della squadra ma anche diciamo ai più esperti che insomma fanno un po' da chioccia per i giovani e che tirano fuori il meglio di loro per l'appunto chi vi ha preceduto vostri compagni di squadra nostri ospiti nelle settimane scorse ha sempre descritto questo spogliatoio come straordinario e credo che il fatto di trovarsi in uno spogliatoio così coeso così unito e che aiuta i giovani che sono chiamati alle prime esperienze sia stato di grande aiuto per voi è così Brunetti assolutamente sì i più grandi verso noi giovani ci hanno sempre aiutato con una parola e li dobbiamo solamente che ringraziare magari capita in altri spogliatoi che quando qualche ragazzo magari sbaglia viene attaccato cose del genere invece da noi veramente sono stati perché poi si perde fiducia si perde autostima e magari veramente tutti si compromette l'annata sono stati veramente fantastici con noi più piccoli li dobbiamo solamente ringraziare Tomassini ha vissuto questo spogliatoio ma anche quello dell'anno scorso c'è stato un salto di qualità da questo punto di vista? Ma allora l'anno scorso diciamo che era tutto un po' complicato dal fatto che comunque l'andamento della squadra era peggiore rispetto a quella di quest'anno ed eravate partiti anche in sensibile ritardo rispetto alle altre esattamente quindi questo è stato appunto un aggravante e ci siamo ritrovati un po' in difficoltà insomma dopo nel gestire il tutto ovviamente quando i risultati non arrivano tutto rimane più difficile quest'anno siamo comunque partiti bene abbiamo comunque tenuto eretto bene insomma per tutto il proseguo del campionato quindi dopo di conseguenza viene tutto più facile nonostante comunque ci siano state già le basi per fare bene partendo per l'appunto dalle idee del mister della società di tutto il contorno dei tifosi che ci hanno sempre supportato e così insomma viene tutto più facile dopo di conseguenza una squadra che ha dimostrato anche spirito di reazione nel corso del campionato c'è stato un momento molto difficile non va negato anche piuttosto lungo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 ma vi siete ripresi alla grande cos'è successo in quel periodo Brunetti e qual è stata la molla per ripartire con questa decisione quello che è successo in quel periodo sinceramente non te lo so spiegare perché è stato veramente periodo brutto perché i risultati non venivano anche magari qualche errore arbitrale noi l'impegno ce lo mettevamo sempre però alla fine ci girava sempre tutto storto però il mister ci ha sempre detto di stare tranquilli di fare sempre il nostro gioco di allenarci sempre bene che alla fine i risultati sarebbero arrivati così è stato e quindi ora sta andando parecchio bene ve li godete andiamo a vedere questi risultati quelli dell'ultima giornata con il successo esterno appunto della squadra Granata sul campo del Vasto Girardi davanti hanno vinto praticamente un po' tutte in questo caso non soltanto il Pineto che sta ormai ipotecando la promozione ma anche la Vigor Senigallia che continua a rappresentare davvero la sorpresissima di questa stagione vittoriose anche il Cinzia Alba Longa e tra le squadre di vertice pure il Trastevere diamo un'occhiata anche alla classifica di conseguenza perché mi pare che i valori si stiano delineando Alma che ora ha 4 punti sul Porto d'Ascoli che sta un po' accusando una flessione nelle ultime settimane così come il Matese siete nei playoff Tomassini intendete ovviamente restarci ma oggettivamente credi che ci siano possibilità molto elevate di assicurarsi appunto la post-season cioè gli spareggi finali secondo me le possibilità ci sono sta ovviamente a noi dovercele preprendere doverci conquistare questi playoff giocando partita dopo partita come appunto ha fatto il mister ci ha messo lì un tabellone con le partite di questo periodo in cui non siamo riusciti a portare a casa risultati c'è questa propensione di Mosconi a scrivere delle cose sì sì ma secondo me è anche una cosa funzionale che porta ai risultati perché sta dimostrando per lo meno per queste due prime partite che insomma sta funzionando questo metodo noi affrontiamo partita per partita senza insomma guardare proiettarci troppo avanti l'ambizione c'è ma ci sono anche tutte le carte in regola per poterci arrivare dentro i playoff adesso la sosta in concomitanza con la Coppa Carnevale di Viareggio in cui è impiegato un vostro compagno Tomasino sosta che quando si vince magari non è che viene digerita moltissimo perché si vorrebbe continuare a giocare dopo la sosta comunque c'è una partita che forse Brunetti sente in maniera particolare quella con la Vigor Senigallia in casa perché lui è di Senigallia come vivrai questa attesa e come vivrai quella partita? è un doppio derby per me quindi sono di Senigallia e fa un certo effetto non ho mai giocato nella Vigor ho sempre giocato nell'altra squadra di Senigallia quindi giocare contro la Vigor mi stimola parecchio ci tengo particolarmente quella partita e a far bene questa Vigor Senigallia che all'andata ha inflitto il più grosso dispiacere della stagione all'alma una sconfitta per 3-0 piuttosto netta Vigor Senigallia che continua a marciare speditissima continua a non accontentarsi del secondo posto è una partita alla quale tenete particolarmente proprio alla luce dell'andata e anche per dimostrare che quei punti di differenza sono nove al momento non dicono il vero ma sì allora noi l'affrontiamo come affrontiamo qualsiasi altra partita nonostante comunque ci sia quella voglia di rimonta di far bene dopo il risultato appunto dell'andata comunque la Vigor è una società ben organizzata in cui ritrovo anche molti amici perché anche io sono lì diciamo della zona e ci ho fatto anche degli anni di settore giovanile nella Vigor Senigallia e sarà una partita sicuramente difficile ma noi la prepareremo al meglio e saremo pronti appunto ad affrontarli nel finale di stagione occorrono risorse fisiche ma occorrono anche risorse mentali perché la fatica comincia a farsi sentire da questo punto di vista questa Alma Juventus Fano è attrezzata è preparata Brunetti sì sì siamo preparati su tutto comunque andiamo sempre a 3.000 ogni allenamento quindi non ci manca nulla sotto questo aspetto anzi più passa il tempo e più stiamo meglio quindi non vediamo l'ora di giocare e poi adesso con il meteo favorevole e la primavera che arriva anche i campi da gioco stanno migliorando e quindi state superando un problema che invece vi ha assillato appunto nel periodo più complicato della stagione ma sì quello sì dopo noi appunto con le nostre caratteristiche ovvero di andare a pressare alto e di andare comunque sempre in pressing sull'avversario a uomo così diciamo che passiamo sopra anche agli aspetti del campo o meno noi abbiamo il nostro gioco in mente e quindi dipende tutto da noi non tanto dal campo non abbiamo scusanti insomma grazie ad Alessandro Tomassini difensore dell'Alma Juventus Fano grazie a Giacomo Brunetti attaccante e anche altro appunto della squadra Granata noi ci risentiamo tra qualche attimo C'è una faccia della Virtus Volley marchiata Vigilar chiaramente riconoscibile ormai da tempo in vetta al campionato di A3 di pallavolo maschile c'è un'altra faccia della Virtus Volley peraltro strettamente connessa alla prima squadra da sempre legata all'attività giovanile da qualche tempo anche all'organizzazione di eventi che vogliono promuovere il volley di base e di questi eventi e del legame con Avis tratteremo questa sera con Marco Mantile dirigente della Vigilar Virtus Volley buonasera e benvenuto buonasera e grazie dell'invito e Giuseppe Franchini presidente della sezione fanese di Avis intitolata Giuliano Solazzi buonasera anche a lui buonasera il binomio Virtus Avis sport Avis eventi Avis ormai si sta sviluppando nel tempo e troverà un'altra declinazione prossimamente con la 13 Cup seconda edizione dal 6 all'8 aprile un torneo riservato alle formazioni under 13 maschili perché vi siete concentrati su questa fascia d'età Marco e come si svilupperà questa iniziativa allora la Fano 13 Cup nasce dall'esigenza di andare a completare l'offerta di tornei e di eventi turistico sportivi nella città di Fano siamo partiti con il torneo di Natale Fano International Volley Cup ormai quest'anno 100 squadre 2000 presenze alberghiere prima in precedenza ci sono i ritiri precampionato che ogni anno svolgiamo a settembre ci sono poi i tornei che si svolgono tra maggio e giugno due anni fa le finali scudetto di categoria lo scorso anno la finale di Junior League e pensavamo di completare l'offerta con un altro appuntamento un altro appuntamento che era appunto quello di fare un torneo di qualità e un torneo di qualità che andasse a colmare un gap esistente in tutta Italia nel senso che in tutta Italia non esistono tornei riservati alla categoria under 13 maschile e quindi da qui è nata l'idea appunto di far venire a Fano nei giorni precedenti la Pasqua invitare lo scorso anno le migliori under 13 d'Italia e quindi dal nulla è nato questo torneo la prima edizione ha visto partecipare 12 squadre è stata molto apprezzata tanto che nell'edizione che ci sarà dal 6 all'8 aprile a Fano saranno ben 16 le squadre partecipanti provenienti da 8 regioni e ci saranno formazioni blasonate come Treviso Genova Parma Prata di Pordenone Firenze insomma un bel un bel pacchetto di squadre partecipanti e qui diciamo che verranno messi in mostra tra virgolette i campioni del domani una scelta strategica dunque legata al periodo ma anche alla fascia d'età in questo senso avete trovato terreno fertile presso le altre società anche le altre società avvertivano l'esigenza di un torneo rivolto agli under 13 decisamente decisamente ci siamo accorti che chiedendo in giro appunto proponendo questa idea di torneo abbiamo avuto subito una risposta affermativa da parte della maggior parte delle società perché purtroppo in Italia la categoria under 13 in molte regioni i campionati partono tardi si svolgono fasi a livello promozionale e a livello c'è poca competizione e quindi di conseguenza da qui la risposta delle società che abbiamo chiamato è stata subito sì veniamo vogliamo partecipare vogliamo confrontarci con realtà diverse anche per uscire dai canoni della provincia della regione nella quale loro sono abituati a giocare e quindi di conseguenza abbiamo avuto una risposta che sinceramente è andata al di là di ogni più rossa aspettativa hai già fatto un esplicito richiamo all'evento di Natale la Fano International Volley Cup qui i numeri sono decisamente impressionanti una manifestazione che assieme anche alla 13 Cup che magari ha una storia più giovane vi garantisce quel ruolo che la Virtus in qualche modo ha sempre esercitato ma che diventa evidentemente sempre più evidente di società che in ambito nazionale è individuata appunto come una delle realtà più solide più continue ed anche più fertile assolutamente è una delle nostre priorità quello di andare a completare tra virgolette l'offerta turistico e sportiva nella città di Fano siamo partiti tre anni fa per scherzo con il torneo di Natale che è cresciuto nel corso degli anni siamo riusciti a farlo tra parentesi anche nell'era Covid che non era affatto scontato e siamo arrivati quest'anno a 100 squadre 100 squadre vuol dire essere il secondo torneo in Italia alla pari dell'Ister Volley che si svolge a Pasqua in Ancona secondo solo al torneo Anderlini quindi di conseguenza un riconoscimento assolutamente prestigioso e non vogliamo fermarci qui perché questo torneo è il diciamo dai là a tanti altri appuntamenti che vogliamo che appunto ogni anno facciamo nella nostra città il La Thirteen Cup è un altro appuntamento i ritiri precampionato che svolgiamo a settembre ma quest'anno svolgeremo anche alcune attività a fine maggio inizio giugno sono tutti eventi che permettono di portare a Fano persone e quindi di andare a far conoscere sempre più il nome della Virtus ma allo stesso tempo promuovere la città di Fano abbiamo fatto un calcolo che nel corso di una stagione sportiva riusciamo a portare nella nostra città 3000 presenze e per queste 3000 presenze dobbiamo ringraziare anche tanti partner che ci aiutano nella riuscita dell'evento a cominciare dai partner istituzionali Comune di Fano Regione Marche Dipartimento dello Sport e per poi passare ai partner locali gli alberghi consorziati che ci danno un forte supporto nella sistemazione alberghiera delle squadre e altri partner come Bacedo che si occupa di ciò che riguarda le premiazioni coppe e targhe partner diciamo che si occupa dell'abbigliamento sportivo King e poi Avis che ci dà un prezioso contributo nella riuscita della manifestazione Quanto è complicato organizzare eventi di questo respiro hai fatto cenno ad alcuni partner quanta convinzione c'è da parte di questi partner su sostenere queste iniziative? Ma la convinzione è tanta perché per far sì che questi eventi di così ampio respiro possano riuscire serve che il gioco di squadra tra le varie componenti funziona al meglio e vedo che di anno in anno il rapporto tra queste società e questi enti è sempre più forte e permette appunto di riuscire a fare manifestazioni di livello così come quello di Natale quello di Pasqua e tutte le altre attività che facciamo non ultimo il gioco di squadra oltre che con gli enti e le associazioni anche con le società sportive del territorio che danno un forte supporto e sostegno alla riuscita della manifestazione proprio perché se non facciamo squadra tra di noi questi eventi di questa portata così grande non riuscirebbero in alcun modo anche perché c'è semplicemente la necessità di fruire di una serie di impianti per far svolgere le partite esatto pensiamo che a Natale siamo arrivati ad avere 25 impianti quindi 25 impianti vuol dire 25 segnapunti vuol dire 25 arbitri per i quali ringraziamo un sentito ringraziamento al comitato regionale e territoriale della FIPA vale a dire risolvere nella stessa giornata tanti problemi di vario tipo dalla sistemazione alberghiera problemi di trasporti insomma più siamo e più riusciamo a risolvere i problemi e questo gioco di squadra devo dire che sta dando risultati soddisfacenti e in questo gioco di squadra fa la sua parte Avis che ormai da tempo sta investendo nel mondo dello sport sta investendo sui giovani per promuovere il proprio messaggio per promuovere la donazione di sangue come sta funzionando questa collaborazione con la Virtus e in particolare qual è il vostro apporto a questa 13 Cup che si svolgerà sotto Pasqua siamo dei piccoli sponsor per quel che è possibile perché a noi piace dialogare con i giovani vi dialoghiamo nelle scuole continuamente e ovvio anche nello sport del resto è stato un progetto quello di investire sullo sport come nella scuola che è partito tantissimi anni fa e che ha dato ottimi risultati perché comunque Avis là dove c'è il giovane là dove c'è la partecipazione dove c'è il gruppo che lavora e lavora insieme ovviamente c'è perché l'Avis è solidarietà e quindi noi pensiamo che una squadra una squadra sportiva una squadra che gioca evidentemente dialoga fra i vari componenti rispettandosi reciprocamente e dove c'è solidarietà c'è anche la possibilità di pensare all'altro di rapportarsi con l'altra persona e quindi mandare un messaggio costruttivo un messaggio positivo che ci vuole in questo tempo molto difficile e molto complesso quale è stato in cui poi l'egoismo magari tenta di prevalere e invece appunto investendo sui giovani investendo sullo sport come dicevo prima investendo sulla scuola dialogando facendo educazione civica sostanzialmente credo che riusciamo a investire sul futuro investire sulle nuove generazioni e fare quella staffetta generazionale che dal punto di vista di Avis è particolarmente interessante perché comunque a 18 anni si può cominciare a donare e a 65 anni termina l'età donazionale quindi chiaramente noi dobbiamo pensare al futuro e pensare alle esigenze che ci sono continuamente di sac di sangue si può cominciare a donare a 18 anni ma ci si può preparare all'idea diversi anni prima quale tipo di riscontro avete incontrato in questi giovani c'è sensibilità al tema noi siamo perfettamente convinti che ci sia un preciso riscontro perché i giovani al di là di quello che si dice sulla loro dispersività sul loro modo di essere irregolari eccetera però invece sono ricettivi a dei messaggi noi lo vediamo appunto nello sport e nel gioco di squadra ma lo vediamo come dicevo prima nella scuola perché i giovani in questi ultimi anni ci hanno dato enormi soddisfazioni proprio perché sono riusciti a creare delle cose sull'input che è stato dato dai nostri messaggi dalla presenza e dalla sensibilizzazione ai valori solidali e sociali che l'Avis ovviamente deve realizzare istituzionalmente cioè un giovane a me piace chiedere perché non perché non doni o perlomeno se doni perché lo fai ogni giovane potrebbe dare una risposta potrebbe dire semplicemente beh perché so che il sangue non si riproduce cioè il sangue lo possiamo produrre solo noi perché di sangue c'è bisogno perché sono pieno di vita pieno di energia pieno di vitalità e quindi posso anche dedicare cinque minuti a chi magari è meno fortunato di me tutto è cominciato o meglio molto è cominciato con Vivi il lato sano dello sport un'iniziativa che ormai ha più di dieci anni che si è articolata in una serie di appuntamenti ed allora il marchio di Avis è costantemente presente in una serie di eventi sportivi fate sfuggire pochi è una presenza che richiede anche un impegno a livello di volontariato significativo e noi abbiamo dei volontari che sono oltremodo generosi che interpretano l'appartenenza all'Avis proprio dedicandosi totalmente sì siamo presenti in tante attività siamo presenti appunto nei tornei Virtus come siamo presenti in attività di tante altre società anche che svolgono attività sportive diverse dalla pallavolo ma comunque saremo presenti anche in piazza al torneo Ambrosini come del resto seguiamo fanno correre con il Trofeo Tonelli come saranno presenti almeno per un segmento della parte finale della manifestazione alla prossima con le marathon e tante collaborazioni con il CSI eccetera con il rugby cioè voglio dire l'Avis dove c'è lo sport nella interpretazione più sana e più corretta possibile indubbiamente c'è chi fa sport è fondamentalmente più ricettivo di chi non fa sport beh io penso di sì cioè d'altra parte se torniamo al al vivi il lato sano dello sport e a quelle testimonianze che allora avemmo da sportivi ad alto livello tipo Tofoli oppure da Lorenzetti allenatore eccetera credo che abbiano fatto molta presa abbiano dimostrato come lo sport e la donazione siano esattamente compatibili dicevamo dell'impegno della Virtus nell'organizzazione degli eventi questo all'interno chiaramente di un impegno più complessivo che ormai si sviluppa da decenni una storia ormai di quasi 60 anni quella della Virtus che cerca di aggiungere credo ogni anno che passa ogni mese che passa vorrei dire qualcosa in più anche voglio dire la presenza di Marco Mantile all'interno dell'organicamma societario ha significato un cambio di marcia soprattutto riguardo all'attività giovanile all'organizzazione degli eventi molto preciso è così? Ma diciamo che noi non ci vogliamo mai fermare nel senso noi siamo sempre in movimento e ogni volta cerchiamo di avere idee ed obiettivi nuovi cerchiamo di fare il bene per i ragazzi che vengono a giocare alla Virtus ma fondamentalmente cerchiamo di fare il bene per la città di Fano il nostro impegno è quello di continuare a lavorare a crescere sempre a testa bassa con umiltà per cercare di avere ogni mese che passa ogni stagione sportiva che passa un piccolo step in più un piccolo obiettivo in più da raggiungere e devo dire che nel corso degli anni ce ne siamo posti tanti ne abbiamo raggiunti diversi ma non vogliamo sicuramente fermarci qui vogliamo continuare a fare di anno in anno qualche piccolo passi in avanti per poter fare sempre meglio tutte le società sportive hanno attraversato un periodo che è stato difficile per il mondo intero quello della pandemia come l'avete vissuto e come ne siete usciti più forti ancora più radicati ma sicuramente ne siamo usciti dal mio punto di vista dal punto di vista della società decisamente più forti è stato un periodo difficile un periodo in cui non tutte le squadre si potevano allenare dei gruppi si allenavano da casa era una situazione insomma complicata ma la ripartenza è stata una ripartenza di assoluto livello quest'anno siamo arrivati ad avere 500 oltre 500 tesserati tra maschi e femmine che per noi è un risultato di altissimo prestigio siamo tornati abbiamo riconfermato il marchio di qualità oro per il settore giovanile sono solo 12 le società in Italia che possono contare il marchio di qualità oro sia per il settore maschile che per il settore femminile nelle marche nessuno oltre noi c'è solamente la lube per il marchio di qualità oro maschile quindi per noi è un importante risultato è importante avere questi numeri ma è importante non fermarsi e soprattutto oltre che su tutti questi numeri continuare a lavorare sulla qualità sia dei gruppi maschili che dei gruppi femminili perché non dimentichiamoci che oltre a questi numeri ci sono anche dei risultati ad esempio nel settore maschile abbiamo conquistato il titolo territoriale nell'under 13 15 17 e ci sarà poi la finale regionale under 15 a metà aprile a Fano nel settore femminile possiamo contare su una collaborazione allargata nel territorio che coinvolge Urbino Fermignano Pesaro Marotta Mondolfo Lucrezia a Fano e anche qui abbiamo tre squadre under 14 16 18 che disputeranno tutte le finali territoriali con possibilità di ben figurare ed anche qui per non farci mancare nulla a livello di eventi la finale regionale under 16 femminile si disputerà a Fano Per un'attività appunto di questa ampiezza necessaria una disponibilità di impianti adeguata quanto impulso ha dato il palatrave che è stato inaugurato non molto tempo fa dopo una gestazione piuttosto laboriosa Il palatrave ha dato un ulteriore impulso molto molto importante alla crescita e allo sviluppo della società avere una palestra adiacente alla struttura trave è stata una palestra tra l'altro con doppio campo che non è una cosa facile da trovare ha dato un impulso notevole alla crescita del settore giovanile e soprattutto alla crescita non solo a livello numerico ma anche a livello di qualità tecnica perché in questo modo tutti i gruppi possono avere più ore di palestra possono avere più spazio anche se siamo arrivati in una fase in cui i gruppi sono tanti i tesserati sono tanti e ci inizia a stare stretto anche il palatrave quindi bisognerà iniziare a pensare anche a qualche spazio in più perché l'attività è tanta il fermento che c'è intorno all'attività è tanta perché comunque sia in continuazione iniziano vengono in palestra ragazzi e ragazze nuove quindi noi prima o poi dovremo anche provare a trovare qualche altro spazio per dar sfogo a tutti i numerosi iscritti e iscritte che abbiamo abbiamo fatto riferimento alla pandemia come invece Avis la sezione fanese ha vissuto questo periodo così complesso come ne è uscita e quali sono allo stato attuale i numeri su cui può far leva l'Avis fanese? beh la pandemia è stata difficile per tutti e lo è stato anche per l'Avis e tuttavia i donatori hanno continuato a rispondere positivamente perché i dati del 2020 2021 2022 sono di poco sotto i dati del 2018 2019 cioè pre-pandemici quindi anche quest'anno cioè nel 2022 abbiamo registrato oltre 4.140 donazioni fatte da circa 2.000 donatori in realtà i donatori iscritti e le donatrici iscritte sono 2.400 ma l'anno scorso hanno donato circa 2.000 donatori 2.000 donatori donatrici quindi comunque c'è un buon risultato perché noi stimiamo che mediamente ogni donatore ha donato 2,19% quindi almeno due volte quindi questo è un dato piuttosto importante abbiamo assicurato il fabbisogno di sangue e di plasma della struttura ospedaliera perché c'è bisogno assolutamente di garantire per tutti gli interventi per incidenti per interventi operatori per tante altre necessità c'è bisogno di garantire sangue e plasma e c'è anche il dato interessante che dei giovani stanno donando la nostra percentuale non è altissima è di poco superiore al 10% però i millennial chiamiamoli così cioè intorno nati intorno al 2000 fino al 2004 perché hanno donato dei ragazzi a 18 anni l'anno scorso e quindi fra poco ci sarà anche il 2005 come il primo donatore quindi sempre interessante sono comunque un buon numero oltre 200 o 250 tra ragazzi e ragazze quindi significa che la staffetta generazionale il turno funziona anche perché comunque l'esigenza di sangue non si ferma di sangue c'è sempre più bisogno e quindi c'è sempre più bisogno di donatori non so alla talassemia no mediterranea cioè chi trova la compatibilità del midollo del midollo ovviamente avrà questa possibilità appunto di superare il problema altrimenti chi non trova questa compatibilità ma è una compatibilità che statisticamente si dice uno centomila quindi è come vincere una lotteria insomma il primo premio di una lotteria e chi non trova questa compatibilità è costretto a delle trasfusioni spesso anche due trasfusioni al mese quindi immaginiamo quanta necessità e questo accade anche a Fano questa situazione quindi sono queste le situazioni però certo non bisogna mai fermarsi quindi l'Avis è di nuovo pronta a ributtarsi e di cui una presenza sul territorio e nello sport così articolare sì perché comunque se guardiamo i dati europei e nazionali certamente qualche osservazione ci può fare ad esempio in Italia e anche a Fano su mille abitanti circa 35 persone sono donatori in Danimarca sono oltre 60 in Germania sono più di 50 e qui però dovremmo affrontare un discorso di senso civico e di senso di appartenenza alla comunità che ci porterebbe molto lontano da questo punto di vista però comunque dobbiamo riconoscere che il senso civico cioè sta crescendo Avis nella misura in cui è chiamata a tante situazioni sportive non sportive o comunque di aggregazione Avis c'è quindi significa che comunque la gente il concetto lo recepisce torniamo allo sport e prima di concludere velocissimo inciso sulla prima squadra ancora saldamente in testa al campionato di A3 maschile Girone Bianco che se il vantaggio rispetto a Pineto si è ridotto due partite alla fine questo primato va difeso ad ogni costo mantiene assolutamente assolutamente noi vogliamo difendere questo primato con le unghie e con i denti allo stato attuale dei fatti il punto di macerata riveste un'importanza fondamentale soprattutto per le difficoltà che abbiamo trovato nel corso della partita da quel punto bisogna ripartire per cercare di fare almeno cinque punti nelle prossime due sfide cinque punti vorrebbero dire certezza del primo posto in classifica certezza di disputare la finale playoff per la promozione diretta in A2 e anche certezza di poter disputare nel periodo nel weekend pasquale la Supercoppa italiana di Serie A3 a Fano con il campo tricolore contro la vincente della Coppa Italia ovvero Pineto grazie a Marco Mantile dirigente della Vigilar Fano grazie a Giuseppe Franchini presidente della sezione fanese di Avis intitolata Giuliano Solazzi noi ci rivediamo tra qualche istante l'ambizione di Sportissimo è di occuparsi di quanti più sport possibile e di occuparsi di quanti più sport possibile è nel mandato del Panathlon Club Fano che ospitiamo questa sera con il suo presidente Francesco Savelli buonasera e benvenuto buonasera grazie di averci ospitato qua e buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e con il past president si dice così in ambito Panathlon vuole significare il presidente del mandato precedente Fabrizio Tito buonasera anche a lui grazie Andrea buonasera a tutti felice di essere qua e raccontare la nostra realtà una realtà che ha ormai una storia piuttosto ricca si parte addirittura dal 1978 allora appunto il debutto sulla scena del Panathlon Club Fano cos'è successo in questi decenni di importante e soprattutto di continuativo perché il Panathlon Club Fano c'è stato sempre certo allora la nascita del nostro club è avvenuta nel 1978 ma il Panathlon Club International è nato esattamente nel 1912 quindi 72 anni fa è una realtà diffusa in tutto il mondo è l'unico club di service che è nato in Italia per poi diffondersi in tutte le nazioni e fanno parte del Panathlon Club International i club territoriali in questo caso il Panathlon Club di Fano l'obiettivo del Panathlon Club che appunto ha contraddistinto la nostra attività all'interno del territorio che è partita all'interno del 1978 è quella di condividere con più attori possibili i valori etici dello sport quindi lo sport visto come stile di vita come diciamo attività che consenta ai ragazzi di crescere in modo corretto e quant'altro all'interno di questi anni ovviamente sono succeduti diversi presidenti io sono past e sono stato presidente negli ultimi 5 anni posso ricordare Luigi Marfori Mauro Pagnottella Pio Ferri e anche il carissimo Giorgio Tonelli recentemente scomparso esattamente esattamente e quindi la nostra attività consiste nel appunto svolgere in modo del tutto ovviamente un'attività di volontariato e cercare di dialogare con tutte le amministrazioni sia locale fanese ma anche della valata del Metauro al fine di condividere i principi e diffondersi il più possibile sia con le amministrazioni che con le società sportive quindi con tutti coloro che ovviamente parlano di sport e all'interno del nostro club sono presenti quelle persone che in vario modo sono state all'interno del mondo sportivo o lo sono tuttora e benvenga che lo siano tuttora perché ovviamente sono in grado ancora e in modo attivo di svolgere queste attività all'interno delle società e quindi reputiamo molto importante questa attività naturalmente quando si vogliono promuovere i principi più sani dello sport la platea privilegiata non può che essere quella del mondo dei giovani e della scuola e in questo orizzonte si inserisce un progetto che proprio in queste settimane Panathon Club Fano sta promuovendo vero Savelli? sì in queste settimane siamo all'interno di tutte le scuole medie di Fano per promuovere fondamentalmente il messaggio del Fair Play è un progetto nato dal Panathon International che noi abbiamo accolto come club e quindi andiamo dentro tutte le terze medie delle scuole di Fano a fare un'ora di Fair Play fondamentalmente dove spieghiamo quelli che sono i valori del Fair Play spieghiamo ovviamente che cos'è il Panathon perché i ragazzi non ci conoscono e spieghiamo quello che è il valore etico dello sport perché un valore etico nello sport è poi un valore etico nella vita di tutti i giorni quindi il messaggio che in realtà diamo non è quello solo di compiere un gesto di Fair Play all'interno di un'unità sportiva ecco mi pare vogliate promuovere un significato del Fair Play ampio esatto perché è un Fair Play nella vita di tutti i giorni il messaggio che gli diamo è quello che comportarsi in maniera etica è giusto per una società civile migliore questo è fondamentalmente il messaggio che stiamo portando dentro le scuole e altro che non è una preparazione a un evento che abbiamo programmato per il 5 giugno prossimo dove tutti questi ragazzi delle terze medie di fa non li porteremo al palazzetto dello sport dove interverranno quattro relatori di livello nazionale tre arbitri e un personaggio televisivo insieme al professor orario Federici che peraltro sarà ospite nostro di una conviviale il 24 marzo prossimo proprio per parlare di Fair Play e di parlare cos'è il Fair Play nella vita di tutti i giorni e nell'occasione del 5 giugno successivamente ai relatori ci sarà la consegna dei tre premi studente-atleta è un premio che consiste in un riconoscimento in 200 euro per premio dove vengono premiati tre ragazzi che si sono particolarmente distinti sia come studenti appunto perché primo studente-atleta che come sportivi e quindi una parte è a compito della scuola e una parte è a compito della società sportiva di riferimento questo per incentivare i ragazzi diciamo a capire il messaggio a dedicarsi allo sport ma senza trascurare la scuola esatto certo perché quello è fondamentale la vostra presenza nella scuola si è dispiegata in questi anni anche attraverso altre iniziative faccio riferimento in particolare alle carte che avete concretamente installato all'interno delle scuole da una parte la carta dei diritti del ragazzo che fa sport dall'altra e nella realtà in cui viviamo non è certamente aspetto trascurabile la carta dei doveri dei genitori come si significa questa iniziativa? Allora assolutamente sì ti ringrazio per aver ricordato questa attività di servizio perché la consegna delle targhe etiche è veramente un cavallo di battaglia e soprattutto è un'attività che tutto il movimento per un atletico fa e crede molto in questa attività si tratta di nel 2016 è stato redatto dal comitato scientifico del Panetone International la carta di Gende nella carta di Gende è composta dalla carta del fair play di cui abbiamo parlato prima e come hai detto tu la carta dei diritti dei ragazzi di praticare sport e i diritti e i doveri dei genitori nel farlo praticare e leggendo appunto questi punti in particolar modo quella dei dei doveri dei genitori ci si rende conto e qualche volta mi rendo conto anche io personalmente che spesso si deraglia si deraglia esatto bisogna cercare di trattenersi perché effettivamente dal punto di vista emotivo quando magari si guarda un evento una partita ci si lascia trascinare esattamente però sono evidenziate aspetti molto chiari seppur banali ma che in realtà insomma se ci si attiene a quei comandamenti non si sbaglia di sicuro assolutamente perché proprio il termine se si eseguono quei comportamenti sia veramente un vero sportivo quindi assolutamente sì è una modalità di comportamento che se è seguita siamo veramente a posto anche perché purtroppo assistiamo sempre più spesso a comportamenti invadenti da parte dei genitori definiamoli così ma qualche volta davvero eccessivi sì assolutamente sì di esempi purtroppo ne abbiamo anche avuti a Fano e magari anche dialogando con altri attori dello sport ci si è chiesto un pochettino come potevano in qualche modo noi cercare di incidere su questo ma in realtà esistono già delle norme ben precise quindi non bisogna fare nient'altro se non ad esempio l'attività nostra cercare di riportare di nuovo alla luce questi principi perché parlarne sia con i ragazzi ma anche con i genitori perché la modalità di dialogo con questi ragazzi è anche una modalità importante perché ci si aspetta che poi sia all'interno dell'attività all'interno della scuola che magari in famiglia ne possono parlare poi con i genitori con i fratelli e quindi questo è importante perché si dà un input per approfondire questi temi che spesso fra l'altro recentemente anche all'interno della scuola è stata introdotta l'educazione civica quindi una materia molto traversale e quindi gli stessi docenti ci ringraziano per dare modo anche di approfondire questo tema attraverso le carte etiche Che tipo di risposta trovate all'interno delle scuole da parte dei ragazzi ma anche da parte dei docenti? Questa domanda è interessante perché nelle ore che si è fatto a scuola quando facciamo svolgiamo questo programma consegniamo ai ragazzi dei fogli dove all'interno ci sono appunto le carte dei doveri del genitore e la carta del fair play e la carta dei diritti del ragazzo nello sport la cosa molto interessante è che gli faccio leggere uno per uno a ogni ragazzo i punti della carta dei doveri del genitore e ogni volta chiedo a tutta la classe come è andata a casa loro se si rispecchiano in quei punti oppure no e ho trovato le risposte più diverse più diverse ma purtroppo nella maggior parte non ho trovato tantissime conferme in proposito purtroppo insomma c'è lavoro da fare c'è molto da lavorare ancora in proposito però stiamo penso lavorando bene anche perché fondamentalmente questo lavoro di educazione ai valori veri dello sport che viene fatto presso le nuove generazioni probabilmente non è stato fatto verso le generazioni precedenti no siamo purtroppo figli di qualche generazione di assoluta indifferenza in proposito e quello che stiamo cercando di fare è di colmare piano piano questo vuoto il più possibile facendo del nostro meglio soprattutto all'interno delle scuole perché se non si va all'interno delle scuole questo messaggio non arriverà mai posso fare un accenno al premio internazionale del Fair Play che ha vinto sì perché tra l'altro per in qualche modo sottolineare questa propensione verso il Fair Play ogni anno il Panathone Club consegna dei riconoscimenti che vogliono in qualche modo estrapolare dei gesti particolarmente significativi che si sono svolti nell'arco dell'anno e che proprio al Fair Play in qualche modo hanno dato massima espressione sì noi tutti gli anni consegniamo fondamentalmente quattro premi che uno è il premio Fair Play al gesto in generale uno è il premio Fair Play alla carriera al personaggio noi ci occupiamo della Valle del Metauro quindi al personaggio che nella Valle del Metauro si è praticamente distinto nella carriera sportiva all'insegno del Fair Play un premio Fair Play alla promozione quindi alla persona che si è particolarmente distinta nel promuovere lo sport e poi consegniamo e questo di cui Fano deve andare orgogliosa il premio Fair Play al gesto giovani quindi under 16 e nel 2021 una nostra concittadina Asia Volpi una schermitrice ha vinto il premio mondiale di Fair Play perché il premio che noi le abbiamo assegnato l'abbiamo mandato alla Commissione Internazionale del Fair Play che ha sede in Ungheria ed è stato votato nel 2022 come miglior gesto al mondo giovani del 2021 Ricordiamo che la ragazza che gareggia per la Fano Fortuna e Scherma ha in qualche modo suggerito all'arbitro di correggere una decisione sbagliata che l'avrebbe avvantaggiata e le avrebbe consentito di guadagnare la finale e chiaramente questo ha significato poi nello sviluppo del confronto perdere appunto questa possibilità a lei è costato perdere l'accesso alle nazionali però quando poi l'abbiamo incontrata ci siamo accorti che in realtà lei aveva vinto un premio che non si sarebbe mai aspettato in vita sua quindi alla fine è stata premiata ma è anche molto contenta di questa cosa la storia del Panathom Club è fatta anche di incontri con tutta una serie di personaggi che dal livello locale poi hanno guadagnato la ribalta nazionale ma anche personaggi che dalla ribalta nazionale si sono concessi a quella locale incontri che vengono definiti conviviali che hanno permesso di arricchire anche culturalmente i vostri soci e non solo sì anzi in questi ultimi anni abbiamo cercato di fare qualcosa di più perché in passato si facevano appunto questi conviviali e si invitavano ospiti illustri e in qualche modo l'accrescimento è un accrescimento che riguardava solo coloro che partecipavano alle conviviali invece in questi ultimi anni c'è stata questa voglia di aprirsi al territorio di collaborare con l'amministrazione e con l'università di Urbino e siamo riusciti a organizzare diversi convegni che avevano appunto temi molto importanti che interessavano non solo i ragazzi ma anche i genitori piuttosto che i nonni e non solo lo sport mi parli capire esattamente sì o comunque aspetti che si potevano legare lo sport ma che riguardavano anche la vita quotidiana bravissimo cioè lo stile di vita quindi lo sport come prevenzione ai tumori come attività di recupero nel momento in cui persone avevano subito operazioni importanti quindi temi molto importanti che hanno richiamato appunto anche persone che non conoscevano il panotrono ma che hanno avuto modo anche di approfondire questi temi che sono stati appunto molto interessanti e valutati anche dagli ospiti in modo decisamente positivo come è formata la platea dei soci del panotrono di Fano mi pare che negli anni siano state rappresentate tutte le realtà sportive tutte le diverse storie e questo anche a fronte di una città che comunque sportivamente è sempre stata molto produttiva nelle più diverse discipline beh il panotrono significa appunto unione di tutti gli sport e quindi all'interno dei nostri soci ci sono rappresentate le attività sportive più diverse da ovviamente dal calcio alla pallavolo al tiro al piattello al frisbee all'atletica gli sport sono la scherma la scherma sono tutti rappresentati sicuramente ne avrò dimenticato qualcuno ma sono ugualmente tutti rappresentati quindi abbiamo dei soci che rappresentano appunto gli sport più diversi e questo per noi è importante perché riusciamo ad essere a contatto con tutti gli sportivi perché alla fine poi la nostra missione è questa perché il messaggio del fair play deve arrivare a tutti gli sportivi non solo agli sport olimpici o agli sport di elite ci occupiamo anche degli sport minori ovviamente perché per noi sono importantissimi e quindi nel club abbiamo la fortuna di avere dei soci anche illustri come Davide Mazzanti piuttosto che è stato tra l'altro coinvolto in iniziative credo rilevanti in iniziative molto importante perché il nostro club attraverso un nostro socio è stato promotore della consegna del sigillo di Ateneo cerimonia al quale il Panathon ha partecipato a Urbino e Davide Mazzanti è stato così gentile e carino da poi venire a un convegno che abbiamo organizzato presso la Sala San Michele dove ha ripercorso la consegna di questo sigillo con molto piacere abbiamo avuto una folla devo dire di presenti importante è stato un bellissimo evento quali sono i rapporti con le istituzioni alle quali abbiamo fatto già accenno quali sono i rapporti con le società sportive del territorio e i diversi attori allora sì sono rapporti molto importanti e in questi ultimi anni cerchiamo anche di allacciare rapporti con amministrazioni appunto vicine a Fano ma ubicate nella valata del metauro al fine di ovviamente spiegare cosa facciamo e quale contributi possiamo portare al territorio e alle società sportive e nello stesso tempo appunto creare e ricevere dei feedback molto importanti perché la cosa bella di questa nostra attività è che ci consente anche di conoscere realtà sportive che magari non non si conosce assolutamente perché appunto sono realtà anche piccole che per alcuni territori invece sono stremamente importanti una delle caratteristiche del Panathone Club è quella di essere molto legata agli altri Panathone Club almeno quelli insomma delle realtà più vicine è così? certo noi facciamo parte dell'area 5 è l'area più vasta che è presente all'interno del Panathone International perché comprende l'Emilia Romagna e le Marche e quindi sono tantissimi club e negli anni i governatori hanno sempre cercato in qualche maniera di coinvolgere sempre di più i club a partecipare alle loro iniziative quest'anno questo progetto dello studente atleta diciamo che sta coinvolgendo tantissimo i vari club delle Marche stiamo consegnando tutti quanti come club delle Marche lo stesso documento ai ragazzi che partecipano a questo evento e questa è una cosa importante perché si dà un messaggio unico e l'importanza di dare un messaggio unico è fondamentale perché rende ancora più importante il messaggio stesso e quindi cerchiamo di essere sempre più uniti e coesi come club non ultima la conviviale che andremo a fare i primi di maggio per la Colle Marathon che coinvolge appunto il club di Fano il club di Pesaro e il club di Senigallia perché sono tre club che fanno parte del territorio dove si svolge la Colle Marathon e tutti gli anni è giusto che facciamo una conviviale unica per essere più presenti possibili grazie a Francesco Savelli presidente del Panathon Club Fano grazie a Fabrizio Tito past president del Panathon Club Fano grazie a voi come sempre per averci seguito e confidiamo lo facciate anche la settimana prossima grazie a tutti